E quindi è un po' una forma, ecco la legge impone questo, però passati 40 giorni mi sembra oppure che lei faccia fare, ma già lo è, cioè capiteci E quindi basta questa dichiarazione diciamo Sì oggi mi hanno fatto preaffido, hanno voluto conoscere il cane Ehi, state carni eh? Miamo Jets Miamo Hanno voluto che andassi in col cane, quel bambino Lì là E siamo stati i doni, quindi invece qui sta nella zona sua, tanto lui delle volte si allontanava Lui andava a Verona venendo insomma dai parenti e lo lasciava una settimana qui con i suoi amici, quindi lei lo aspetta non è un problema, senza di lui non lo so come andranno le cose però